ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco cereali biologici a cosa serve cereali biologici a un parafarmaco appartenente alla categoria degli altri alimenti per l'infanzia è commercializzato in italia dall'azienda melina spa informazioni commerciali titolare melina spa concessionario melina spa categoria di appartenenza altri alimenti per l'infanzia confezioni cereali biologici miluris crema riso s barra glutine 200 g indicazioni per il suo valore nutritivo e per l'elevata digeribilità e per l'assenza di glutine melupa crema di riso è indicata per l'aggiunta al biberon e per la preparazione delle prime pappe dal quarto mese compiuto sentito il parere del pediatra per l'assenza del latte e di glutine è indicata nella rialimentazione dopo malattie gastrointestinali è utile anche per i convalescenti le gestanti le persone anziane e nelle diete speciali per disturbi gastrici e intestinali descrizione e caratteristiche melupa crema di riso e riso puro precotto secondo un processo tecnologico che consente di conservare le proprietà nutritive e di ottenere la migliore digeribilità il riso per la sua natura è caratterizzato dall'assenza di glutine ed è particolarmente digeribile melupa crema di riso non contiene latte ed ha il gusto delicato tipico del riso milupa specializzata nella produzione di alimenti per l'infanzia prepara una serie di prodotti per il bambino nati dalla ricerca scientifica e realizzati attraverso i più avanzati processi tecnologici senza glutine solubile all'istante elevata digeribilità agricoltura biologica regime di controllo comunità economica europea avvertenze conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore componenti e ingredienti farine precotte di riso provenienti da coltivazioni biologiche vitamina b1 analisi media per 100 g di prodotto valore energetico cal 375 chi 1594 proteine nx 6 e 25 g 8,7 carboidrati pd g 84,8 grassi g 0,8 minerali g 0,7 umidità g 5,0 sodio g 0,004 vitamina b1 mg 0,8 le farine utilizzate per milupa crema di riso provengono esclusivamente da coltivazioni biologiche questo significa che i cereali non hanno subito alcun trattamento con fertilizzanti chimici e pesticidi durante tutto il processo di coltivazione raccolto trasformato e stoccaggio la certificazione dell'organismo di controllo c'è istituto ecocert 32 mila 600 lille urda in francia league numero 14.227 garantiscono la conformità del prodotto alla legislazione comunitaria europea di agricoltura biologica fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato